buongiorno a tutti questo tutorial riguarda principalmente la compilazione dell'allegato di scuola secondaria l'inserimento di tale allegato nella sezione degli allegati e poi l'applicazione nella domanda dell'allegato di alla domanda stessa andiamo proprio sulla nella sezione mobilità del personale docente nel sito del ministero dell'istruzione c'è proprio una sezione dedicata dove troverete la modulistica e poi le auto dichiarazioni 2022 2023 conformi all'ordinanza ministeriale per la mobilità andando a cliccare su queste auto dichiarazioni troverete i vari allegati tra cui c'è l'allegato di dichiarazione sanità di servizio per la scuola primaria vale anche per la scuola dell'infanzia mentre per la scuola secondaria di primo e secondo grado e la terza opzione allegato di dichiarazione dell'anzianità di servizio cliccando su questo lì che si scaricherà nel proprio pc l'allegato di da compilare una volta scaricato l'allegato di si compila facilmente perché è in word editabile dunque io sottoscritto per esempio scrivo il mio nome e cognome o vado a compilare con tutti i dati di riferimento per esempio questa prima tabella riguarderà proprio gli anni in ruolo io per esempio ho fatto 15 anni di ruolo metterò 15 e poi inserirò per anno scolastico dal al tutti e 15 gli anni in queste diciamo righe se sono meno di 15 si possono aggiungere le righe e poi si salva nel proprio pc il il l'allegato per poi inserirlo nella sezione e allegati della domanda di mobilità una volta salvato l'allegato di del proprio pc si rie si entra su istanze online chiaramente con il proprio speed e acconsentendo all'ingresso in quest'area riservata si va su altri servizi andando su altri servizi scendendo tra tutte queste opzioni si troverà la gestione allegati si va al servizio della gestione allegati si clicca avanti e si entra in un'area dove ci sarà l'anagrafica del docente cliccando nuovamente avanti si entra proprio nel servizio degli allegati dove abbiamo la possibilità di inserire di visualizzare o di cancellare un file già allegato qui per esempio troviamo un file allegato del 15 aprile del 2017 inseriamo andando sulla voce inserisci il nuovo file appena salvato andiamo a scegliere il file diamo il nome al file la tipologia allegato di 2022 e poi scegliamo da questo tasto scegliamo il riferimento proprio del nostro file che abbiamo appena salvato dobbiamo andare a ricercare eccolo qui andiamo a cercarlo e lo inseriamo immediatamente facendo apri e confermando il nostro allegato lo salviamo e così abbiamo salvato correttamente è stato inserito correttamente possiamo chiudere e così poi passiamo alla domanda arriviamo nella compilazione delle diverse sezioni della domanda e andiamo a indicazioni allegati vedete l'ultima delle sezioni la clicchiamo la apriamo e qui possiamo mettere proprio l'allegato che abbiamo appena inserito in data 23 2022 la clicchiamo e così facendo poi salva abbiamo salvato la domanda la nostra il nostro riferimento chiaramente ci dirà di selezionare come vi avevamo già detto in un tutorial precedente il tipo di posto la scelta di tipo di posto per esempio il posto normale perché è obbligatorio e poi una preferenza e noi avevamo messo ritorniamo a dire regione calabria provincia reggio calabria comune di reggio calabria e poi sceglievamo appunto selezioniamo almeno una scuola avevamo scelto il convinto nazionale Tommaso Campanella per poter poi salvare e avere la domanda salvata correttamente speriamo che questo video tutorial sia diciamo di utilità a tutti i nostri lettori un saluto e alla prossimo video tutorial Grazie 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 Grazie